Sì, noi abbiamo già deciso da tempo di offrire la possibilità a chi venisse in Puglia, ovviamente permanesse per un periodo congruo, noi parliamo almeno di tre settimane, perché tre settimane è quel periodo che impedisce poi al cittadino di poter programmare la seconda dose. Quindi chi resterà in Puglia per un periodo piuttosto lungo dovrà fare la seconda dose, chiaramente non dovrà tornare nella regione di origine. Abbiamo un sistema che permette di esprimere questa possibilità, cioè di comunicare che si permanrà in Puglia in quel periodo e che si ha bisogno di quel tipo di vaccino, quindi sulla base della disponibilità di vaccino daremo questa possibilità. Loparco, la interpello non in quanto amministratore che sta illustrando un servizio che offre grazie al proprio sistema sanitario regionale, ma in qualità di professore, perché mentre tutte le regioni si stanno muovendo in questa direzione, l'indicazione del CTS in ragione anche della diffusione della variante Delta è quella di dire cari italiani andate in vacanza soltanto dopo il completamento del ciclo vaccinale, che è precisamente un messaggio opposto rispetto alla possibilità di vaccinarsi in vacanza. Attenzione, se io mi sposto da una regione all'altra d'Italia non vedo perché dovrei alterare la circolazione virale, la situazione virologica nelle regioni italiane è più o meno tutta simile. L'indicazione ad andare in vacanza con un ciclo vaccinale completo si riferisce soprattutto a quelle persone che vanno fuori dall'Italia e soprattutto se si recano in paesi dove è stata accertata una circolazione di varianti virali particolarmente vivace. Ma se io dalla Lombardia vengo in Puglia a fare le vacanze, la situazione virale è la stessa. E' per questo, professore, che lei ritiene necessario che il Green Pass, tra l'altro quello europeo, entra in funzione domani, primo di luglio, venga rilasciato solo a chi completa la vaccinazione. In questo momento viene rilasciato anche a chi ha fatto soltanto la prima dose. Sicuramente sarebbe una maggiore prerogativa di sicurezza. Se io ho due dosi avrò una probabilità molto molto inferiore di infettarmi e quindi riportare a casa il virus magari con una nuova variante resistente alla vaccinazione. Per ora però i vaccini hanno dimostrato di essere particolarmente efficaci nel proteggerci dalla malattia grave. Questo è il messaggio più importante che dobbiamo dare. Allora, professore, ci fermiamo un momento e torniamo a parlare.